Mister Gianluca Porro, un'altra vittoria, sei soddisfatto? Sì, anche se poi bisogna cercare di essere, insomma è quello che ci siamo detto in queste settimane con il gruppo, bisogna cercare di essere il più possibile maniacali e di porsi gli obiettivi importanti. Il rammarico è aver preso gol e quindi non aver dato valore secondo me ha un primo tempo straordinario. Secondo me è veramente molto molto importante per approccio, per temi sviluppati, per atteggiamento, per concretezza, per situazioni create, per situazioni non concesse, ma sicuramente veniamo fuori forti da questa partita e carichi per quello che ci aspetta. Come era prevedibile il playoff, sarà a Casale e a Casale. Sì, andiamo, andiamo con tanta voglia intanto prima di tutto. Io onestamente adesso, magari proprio adesso no, ma tra un'ora non vedo l'ora che sia domenica prossima. Quindi siamo cosci del fatto che ci servirà tutto quello che potremo metterci in ogni contenuto che si potrà dare a questa partita, ma siamo anche umilmente consapevoli del fatto che possiamo fare questa impresa. Piccolo bilancio personale, sette partite, una sconfitta, due pareggi, quattro vittorie. So che non conta, però. No, no, è importante aver centrato gli obiettivi iniziali, il primo degli obiettivi che ci siamo dati, e andare avanti un passo alla volta. Andare avanti un passo alla volta. Adesso, oggi, l'ho detto ieri, il passo si chiamava PDHA Evanson, il prossimo si chiama l'allenamento di martedì, che è l'inizio della preparazione della sfida di domenica. Quindi niente di falsa modesta e roba del genere. La pura verità è che dobbiamo guardare un passo alla volta e focalizzare bene quali sono gli obiettivi e approfondire tutte le energie possibili per centrarli. A chi ha lavorato prima, sicuramente. A tutti dal primo all'ultimo. Ovviamente, secondo me, è una grande stagione. Ve l'ho detto domenica scorsa, non bisogna dimenticarsi i sacrifici che sono stati fatti, le realtà che sono state toccate e vissute. La stagione travagliata è l'anno scorso. E quindi, secondo me, bisogna solamente esserne veramente molto, molto contenti. Ovviamente, ci sono queste partite, questa coda, c'è questo play-off, che mette il punto alla frase precedente ma lascia delle pagine da scrivere e devono essere pagine importanti.